Grazie a tutti. Arrestato il DJ spacciatore, gli vengono contestati centinaia di episodi di spaccio assieme ad altri due pusher. Black Friday al via i super sconti, prezzi ribassati anche del 50%, in centro storico commercianti ottimisti. Tutto esaurito al Teatro Politiama per lo spettacolo di Paolo Ruffini, Up and Down. Una buona serata dalla nostra redazione, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. In apertura del nostro telegiornale torniamo ad occuparci dell'inchiesta della procura sulle analisi svolte nel laboratorio dell'ospedale senza pagare il ticket favorendo amici e parenti. 43 gli indagati, oltre 1000 i casi sotto esame. Sarebbero più di 1000 le analisi effettuate dal laboratorio dell'ospedale non rispettando la prassi. È il numero che emerge dall'inchiesta portata avanti dalla procura, che sta indagando su un giro di favoritismi all'interno del laboratorio. Medici e tecnici della struttura ospedaliera avrebbero aggirato il sistema per favorire amici, conoscenti e parenti, portando le provette direttamente al laboratorio, non facendo passare i pazienti dalla prenotazione e dal centro prelievi del Giovannini, aggirando così anche il pagamento del ticket. Sono 43 gli indagati con l'accusa di truffo e peculato, a far scattare le indagini una segnalazione anonima e un episodio che aveva coinvolto la responsabile del laboratorio stessa, protagonista di una controversia con una sottoposta che si era rifiutata di compiere analisi non rispettando la prassi. Vicenda poi finita in tribunale. La pratica sarebbe andata avanti per anni. Le provette sarebbero arrivate a mano nel laboratorio, senza codice identificativo, per poi essere inserite nel sistema per l'emissione dei risultati. In pratica, dal sistema, le analisi in questione risultavano solo uscite dal laboratorio, ma non entrate con le modalità previste. Quasi sempre le analisi senza codice identificativo appartenevano a parenti di medici e tecnici, circostanza che ha subito insospettito gli inquirenti. Durante la stessa perquisizione della Guardia di Finanza, compiuta ieri, sarebbero arrivate provette in laboratorio consegnate a mano. Nei prossimi giorni la procura ascolterà gli indagati per cercare di fare ulteriore luce sulla vicenda e circoscrivere le responsabilità. E ancora la cronaca. È stato rintracciato ed arrestato dalla squadra mobile ieri mattina nei pressi della piscina di Via Roma, lo spacciatore DJ, volto notissimo della comunità nigeriana, dove il 28enne, appassionato di musica rap, è appunto conosciuto con il soprannome di DJ. L'uomo è finito in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP per evitare il pericolo di fuga, vista l'imminente conclusione di una misura alternativa alla detenzione a cui era sottoposto. Secondo gli inquirenti, il pusher DJ è responsabile, insieme ad altri due connazionali di 18 e 28 anni, attualmente in carcere, anch'essi già raggiunti da misura cautelare, di centinaia di episodi di spaccio effettuati tra Prato e Calenzano. I due collaboratori del DJ furono arrestati in flagranza di reato a Calenzano lo scorso settembre, quando vennero loro sequestrati 150 grammi di eroina e 840 euro in contanti. E voltiamo pagina, è stato presentato il decimo rapporto regionale sulla violenza di genere e i casi sono in aumento. Sentite. I dati raccolti tra le pagine del decimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana, presentato davanti a una gremita sala nella sede della Presidenza della Regione a Firenze, descrivono un fenomeno in crescita, con 22.437 donne che tra 2009 e 2018 si sono rivolte ai 24 centri antiviolenza, la maggior parte italiane. Le donne uccise in Toscana tra 2006 e 2017 sono state 108 e 2.770 nel 2017 sono stati i bambini vittime di maltrattamenti in famiglia. Il rapporto ci mette in mano dati fondamentali per costruire le nostre politiche, dati che ci danno chiaro che la violenza è una violenza che si consuma soprattutto all'interno delle mura domestiche e che chi fa violenza sono i partner e gli ex partner, soprattutto, e sono soprattutto italiani. Dal 2007 la Toscana si è dotata di una legge per il contrasto alla violenza e sostiene la campagna per promuovere il numero verde nazionale antiviolenza 1522. Bisogna alimentare una cultura del rispetto degli altri, del rispetto delle diversità, del rispetto delle persone in qualunque modo decidano di vivere la loro vita, delle persone di tutti i generi che qualunque scelta facciano, da qualunque paese provengano, qualunque tipo di orientamento religioso o sessuale possano avere. Dal monitoraggio dell'osservatorio regionale sulla violenza di genere è emerso che la rete regionale del Codice Rosa ha registrato tra 2012 e 2018 18.699 accessi, 2.640 dei quali solo per i minori, sempre di più le donne che trovano il coraggio di denunciare. Questi dati provengono dai centri antiviolenza, da tutta la rete territoriale. Quest'anno c'è anche un'indagine particolare svolta dal Lauser sulla violenza alle donne anziane. Un dato questo importante perché in genere le donne anziane che subiscono violenza, ma anche quelle vittime di femminicidio, non fanno notizia come le giovanissime. Un gazebo, un campere personale qualificato della Polizia di Stato saranno in Piazza Duomo domani mattina per incontrare, assieme ai referenti dei centri antiviolenza pratesi, gli studenti delle scuole cittadine. La manifestazione nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne fa parte di una campagna di prevenzione e di sensibilizzazione portata avanti dalla questura nelle scuole, dove nominata questo non è amore. Per dire no alla violenza di genere, neloltre domenica 25 novembre la nazionale di rugby femminile d'Italia e Sudafrica scenderanno in campo in un match amichevole che si disputerà allo stadio Cersoni di Yolo. Alle 14.30 le giocatrici delle due nazionali saranno presenti in Piazza Duomo domani mattina al fianco della Polizia di Stato. E il tema della violenza sulle donne sarà anche al centro della puntata di questa sera del settimanale di attualità Parliamoci Chiari, non dalle 21.20. Per saperne di più ci colleghiamo con Giancarlo Gisonni a Telalinea. Grazie a voi tutti, buonasera. Anche noi questa settimana vogliamo dedicare attenzione a questo fenomeno, un fenomeno purtroppo in aumento, come abbiamo sentito anche dal servizio di poco fa. Lo faremo con l'assessore alle pari opportunità Maria Grazia Ciambellotti, con Roberto Platania, responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale presso la Procura di Prato e con Elisabetta Cherubini, presidente del Soroptimist Club Prato. collegamenti in diretta questa settimana dal Centro Anti-Violenza Lanara e poi gli approfondimenti della nostra redazione con anche significative testimonianze, una delle quali con Elena Amato, la sorella di Elisa Amato, la giovane pratese, uccisa lo scorso mese di maggio dal suo ex fidanzato. Tutto questo a partire dalle 21.20, come sempre in diretta, più tardi. Grazie Giancarlo, a più tardi è sempre parlando della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Montemurlo è stato organizzato un ricco calendario di iniziative. Nell'ultimo anno, inoltre sempre a Montemurlo, sono state 21 le donne assistite dallo sportello montemurlese del Centro Anti-Violenza Lanara. Nel 2013, anno della sua apertura, erano 12. A Montemurlo è sempre il 25 novembre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'impegno del Comune, infatti, non si ferma alla semplice celebrazione della ricorrenza ufficiale, ma prosegue durante tutto l'anno in un calendario di iniziative che arriva fino a marzo 2019. Il primo evento in programma è lo spettacolo teatrale di domenica 25 novembre alle 21.30 in una scrittura scenica della compagnia Altro Teatro. Iniziamo appunto in Salabanti il 25 novembre con una rappresentazione teatrale, ricordo di un dolore. Il concetto è appunto quello di mettere in evidenza come in periodi diversi comunque la donna è sempre stata vittima di queste violenze. Il prossimo primo dicembre partirà una nuova rassegna dal titolo La Rosa di Gerico, pianta simbolo di rinascita, con una serie di eventi per far conoscere le storie di chi non si è rassegnato alla violenza e alla disabilità. Il primo in calendario è la presentazione del libro di Simona Obertini, manuale di sopravvivenza ad un ritardo mentale, quello di tuo figlio. Lo stesso primo dicembre al centro La Tartaruga. Tutte iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza che si accompagnano ad un sostegno concreto alle donne in difficoltà grazie alla presenza a Montemurlo dello sportello del centro antiviolenza Lanara. Alle donne che purtroppo sono cadute in questa morsa della violenza offriamo il supporto dello sportello tramite il centro Lanara. Abbiamo infatti qui tutti i giovedì uno sportello aperto dove le donne si possono rivolgere. In quest'anno sono state 21 le donne che abbiamo assistito. Pensiamo che nel 2013, quando lo sportello ha aperto, il numero delle donne che abbiamo assistito era di 12 persone. E voltiamo a pagina dopo le segnalazioni arrivate da alcuni cittadini allarmati da un odore acre e maleodorante provenienti da una ditta di materie plastiche di Montemurlo e carabinieri forestali insieme al nucleo dell'ispettorato del lavoro INAIL e ARPAT hanno eseguito un controllo interforze all'attività. Le verifiche hanno riscontrato irregolarità documentali sulle emissioni in atmosfera e l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela e benessere degli animali per le condizioni in cui era tenuto un cane. Nei confronti del titolare cinese della ditta è stata elevata una multa di 2.200 euro. Inoltre sono state contestate sanzioni per oltre 5.000 euro per violazioni in materia di lavoro. La ditta è stata sospesa perché impiegava una percentuale di lavoratori in nero pari al 50% dei lavoratori presenti sul posto. E parliamo adesso dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati. La rivoluzione, nonostante le censure del garante della privacy, entrerà in funzione dal 1 gennaio del 2019. Tante le novità delle aziende, come spiegato in un seminario di Confcommercio, che si è tenuto stamattina alla Camera di Commercio. Dal 1 gennaio 2019 scatterà l'obbligo in Italia della fatturazione elettronica tra privati, titolari di partita IVA, fatta eccezione per i contribuenti nel regime forfettario e del regime dei minimi. Una rivoluzione anche per migliaia di imprese pratesi. A poco più di un mese dall'entrata in vigore, Confcommercio ha organizzato un seminario per chiarire i punti della riforma, che intende assicurare la tracciabilità delle operazioni, contribuire alla lotta all'evasione fiscale, ed è destinata a cambiare i rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Un quadro normativo che è ancora in evoluzione, perché ancora non abbiamo tutti gli elementi definitivi, in particolare per quanto riguarda le moratorie sulle sanzioni, che si parla di giugno piuttosto che settembre, ma comunque con un'introduzione che sarà dal primo dell'anno. La Confcommercio, sia nel territorio pratese che in quello che sto io, si organizza seminari come quello di oggi, con l'obiettivo di far sì che questa, che sappiamo bene è una rivoluzione nel rapporto con il mondo dell'Agenzia delle Entrate, venga vissuto come un cambiamento. Tante le novità e i dubbi degli imprenditori, a cui gli esperti di Confcommercio hanno dato risposta, dal transito e la validazione delle fatture presso lo SDI, il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, all'obbligo di custodire per dieci anni le fatture elettroniche in un archivio digitale. E ancora si è parlato dei diversi sistemi di trattamento, previsti per fatture immediate e differite, fino all'importanza di non sbagliare nella compilazione. Dopo l'invio non è infatti possibile modificare le fatture elettroniche, ma occorre rettificare con delle note di credito. Tante novità, come pensa di affrontarle? Sicuramente una bella responsabilità dalla parte di chi sta dal punto di vista del commercio. Delegherò per quanto posso alla mia associazione che mi segue, perché ho già tanti oneri da seguire nella mia attività e ritengo che una parte più strutturale e sicuramente che mi compete meno, sarà di più dura impresa per me e da delegare di conseguenza a chi ha le competenze più di me. Sicuramente sono dei costi che vanno a aggravare la situazione, perché io vedo nella mia azienda andremo a sostituire il gestionale, avevamo già intenzione di farlo, questa è un'ulteriore spinta, però questo cambio porterà sicuramente un'orere per cambiare il gestionale e anche dei costi fissi. Gli agenti dell'Unità Operativa Commerciale, Amministrativa e Anticontraffazione della Polizia Municipale hanno sequestrato 500 capi di abbigliamento in due negozi gestiti da cittadini cinesi in via Pistoiese e via Tazzoli. In entrambi i locali la maggior parte dei capi di abbigliamento in vendita non riportavano l'indicazione dell'importatore e le informazioni obbligatorie in lingua italiana. Inoltre quasi tutte le etichette apposte ai capi erano prive di indicazioni relative alla composizione delle fibre tessili. E ci spostiamo adesso a Comeano dove un artigiano e un fruttivendolo sono stati sorpresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre scaricavano residui di attività artigiane e alcune cassette di legno sul marciapiede in via Guido Rossa. La Polizia Municipale del Comune di Carmignano è riuscita a risalire responsabili grazie alle fototrappole appositamente installate per far fronte al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Gli agenti hanno vagliato le registrazioni fotogramma per fotogramma individuando gli scarichi e risalendo i responsabili che adesso saranno sanzionati. Sperimentazione del 5G grazie all'impegno di Comune e Regione partirà il progetto per portare l'innovazione del distretto nonostante il dietro fronte del governo. Se ne parla questa sera intorno alle 9 in onda subito dopo il nostro telegiornale. La scelta della Regione Toscana e del Comune di Prato era di investire e di cogliere l'occasione della sperimentazione 5G che era proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico in 5 città d'Italia e tra cui c'è Prato. La nostra scelta era proprio quella di utilizzare questa occasione per rafforzare e utilizzare fino in fondo il trasferimento tecnologico nel distretto manifatturiero più tradizionale del nostro territorio. In particolare quindi il distretto manifatturiero Tessile e Moda. È evidente che c'era stata un'occasione e mancava solo la pubblicazione del bando da parte di Invitalia di queste risorse dovevano arrivare dal governo. Il nuovo governo ha deciso di, e quindi il Ministero dello Sviluppo Economico hanno deciso di non finanziare la sperimentazione 5G che dava risorse alle regioni, ma appunto di distogliere queste risorse e metterle su altri finanziamenti. Nonostante questo noi andiamo avanti perché crediamo fino in fondo che questa occasione sia un'occasione irripetibile e quindi la Regione Toscana e il Comune di Prato vanno avanti. La Regione Toscana si è impegnata con le parole dell'assessore Cioffo a continuare questo investimento e il Comune di Prato sta facendo un lavoro importante con tutte le categorie economiche e con gli operatori del comparto Tessile e Moda della città di Prato per applicare la sperimentazione 5G nella filiera del Tessile e quindi non in un dimostratore o non facendo ricerca in qualche laboratorio universitario, ma addirittura portando ricerca e innovazione all'interno della filiera del Tessile. Contro replica dei residenti di Via Filzi che nei giorni scorsi avevano protestato per il drastico taglio dei parcheggi in seguito alla messa in sicurezza dell'ex valore. I cittadini si dicono allibiti dalle affermazioni del Sindaco Biffoni rilasciate a TV Prato con cui ha ricordato che a chiedere la messa in sicurezza del cantiere erano stati gli stessi residenti della via. Da cittadini vediamo la cosa in modo diverso, scrivono i residenti in una lettera aperta indirizzata al Sindaco. Chi di dovere avrebbe dovuto intervenire immediatamente per correggere il provvedimento della prefettura, rendendosi conto che questo comportava la soppressione di un elevato numero di soste in una strada super congestionata, magari disponendo a priori una recinzione più alta, affermano i residenti di Via Filzi che propongono anche una soluzione tampone, ossia destinare lo spazio attualmente per i ciclomotori alle auto dei condomini, recuperando così circa un terzo di quelle soppresse. E parliamo adesso del Black Friday, al via ai super sconti, prezzi ribassati anche del 50% e in centro storico i commercianti si dicono ottimisti. Ascoltiamo alcuni dei loro commenti. Tempo di sconti pazzi, tempo di Black Friday, dall'America torna la giornata dedicata ai super affari e numerosi negozi pratesi hanno deciso di aderire a questo nuovo fenomeno commerciale. Un'occasione per approfittare delle offerte più interessanti e per gli esercenti di vedere è aumentare gli incassi in tempi non certo facili, applicando prezzi ribassati anche del 50%. Quest'anno, sottolinea ConfCommercio, il modello statunitense sembra aver preso campo in città. La percentuale di adesioni risulta piuttosto alta e non solo relegata alle grandi catene. Tra coloro che sposeranno la causa si respira cauto ottimismo, anche in centro storico dove il periodo di promozioni si estenderà in molti casi, non solo ad una giornata ma all'intero weekend. È un fenomeno di costume che sta interessando sempre di più la clientela e effettivamente è giusto esserci presenti. Affari un po' di tutti i generi con un occhio alla percentuale senza esagerare perché l'appuntamento sarà quello con i saldi, il prossimo appuntamento sarà quello con i saldi invernali. Diciamo che dal 10 al 30% si possono fare degli ottimi affari. Aspettative? Aspettative sicuramente sono buone, insomma. Approfittiamo del weekend visto che ormai anche le domeniche sono sempre aperte e quindi tre giorni di Black Friday. Ma abbiamo selezionato un po' di merce, facciamo degli scontri dal 30 al 50%. Che tipi di prodotti vi chiedono di più? Ma adesso insomma il giubbotto è finalmente arrivato il freddo, quindi i capi spalla. Secondo Confesercenti l'adesione al Black Friday sta aumentando in modo esponenziale, ma c'è ancora una fetta di imprese che non approfitta di quella che può essere considerata un'opportunità in più, oltre ai saldi, per far girare il mercato. E se di caccia agli affari si tratta, come rinunciare ad un bel gioiello, magari anticipando gli acquisti di Natale? Cominciamo quasi per scherzo, quasi per gioco, tanto per provare, per muovere un po' il mercato che normalmente novembre è quello che è e invece lo ripetiamo con molta gioia perché siamo contenti. Che tipi di sconto e su quali prodotti? Allora, naturalmente non è su tutto, ma su prodotti a produzione normale non c'è soltanto oggetti fine serie, gli sconti vanno dal 20 fino a un 50%, ovviamente il 50% su cose che sono meno fresche, ma con il 20-30% c'è roba nuovissima che se si vende dobbiamo anche riordinare e ricomprare. Dal 16 dicembre 2018 al 26 maggio 2019 il Museo del Tessuto di Prato dedicherà a Leonardo Da Vinci, una mostra che evidenzia l'interesse, la sensibilità e l'ingegno dell'artista nella messa a punto e nell'invenzione di dispositivi e macchine per una delle attività economiche preponderanti del suo tempo, l'arte tessile. La mostra è organizzata dalla Fondazione Museo del Tessuto in collaborazione con il Museo Nazionale Scienze e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano e il Museo Leonardiano di Vinci. L'evento consentirà di conoscere le invenzioni leonardesche attraverso ricostruzioni 3D, apparati multimediali e modellini in scala e rappresenta anche un'occasione per valorizzare l'importanza dell'ingegneria meccanica applicata all'industria tessile. La storia del Centro Pecci e la politica culturale pratese tra il 1980 e il 1995 al centro del libro di Maria Teresa Bettarini, il Centro Pecci a Prato, Costruire un'idea, presentato questo pomeriggio al Museo di Viale della Repubblica. Le vicende personali dell'autrice, già segretaria generale del Pecci, intrecciano con varie fasi di progettazione del centro e con gli eventi dell'inaugurazione, le mostre e le attività dei dipartimenti sullo sfondo di una città in fermento. Ascoltate. È un libro personale, soggettivo, sulle mie esperienze lavorative, un libro sulla fase di progettazione, di inaugurazione del Museo Pecci. Credo però che sia un libro, o almeno ho questa pretesa, che racconta un po' anche quella che era la Prato negli anni 80, una città cadenza di progetti, energie, intuizioni anche da un punto di vista culturale. E non è un caso che tutte le maggiori istituzioni culturali della città in qualche modo hanno trovato il loro incubatore, sono state pensate, concepite proprio in questo decennio, quello degli anni 80. Il libro di Maria Teresa Bettarini, che è stata a lungo segretario generale del centro Pecci, si intitola Costruire un'idea e racconta soprattutto il momento di nascita dell'idea del centro Pecci, quindi in qualche modo è complementare con il percorso che abbiamo tratteggiato nella mostra che ora è al museo, appunto il museo immaginato, che racconta invece il percorso del centro Pecci dalla sua apertura fino ad oggi. Il libro di Maria Teresa Bettarini è un po' il background interessantissimo e un approfondimento sui primi anni di vita del museo. Quindi sono due cose che si combinano estremamente bene e che danno, credo, nell'insieme una lettura davvero completa e sfaccettata di quello che il centro è stato, del perché è nato, ma anche un'idea di quello che il centro potrà essere. Ha preso il via ieri pomeriggio al ridotto del teatro Metastasio la nuova edizione dei TED di Toscana Oggi. Il primo incontro è stato dedicato alla Prato Scomparsa, il progetto di recupero della memoria cittadina curato da Daniele Nuti. Durante la conversazione sono state proiettate e commentate foto storiche della città e raccontati gustosi aneddoti sulla vita pratese di un tempo. TV Prato trasmetterà una lunga intervista a Daniele Nuti all'interno della trasmissione Password, in onda domani alle 22.30 e sabato alle 17.00. Il prossimo appuntamento con i TED di Toscana Oggi è per mercoledì 19 dicembre con Ve la do io la bozza, incontro degustazione dedicato al pane di Prato. Tutto esaurito ieri sera al teatro Politeam Pratese per lo spettacolo di Paolo Ruffini Up and Down, per noi c'era Federica Catalano. Ironico, irriverente ed emozionante, in due parole Up and Down. Lo spettacolo comico e commovente che vede collaborare l'attore Paolo Ruffini ed alcuni dei ragazzi della Major von Frinzius insieme ai loro accompagnatori è andato in scena ieri sera al teatro Politeama, facendosi portavoce di un messaggio forte ed importante. Spesso la diversità è qualcosa di meraviglioso. È stato un punto di non ritorno, faccio fatica a lavorare con la gente definita normale adesso, con ormaloidi come li chiamiamo noi. Penso che un mondo down potrebbe essere una soluzione politica e sociale straordinaria, un mondo dove il denaro ha meno valore, dove non ci sono sentimenti così negativi, dove si può litigare ma per una merenda e poi soprattutto un mondo molto più fisico anche. Chi frequenta persone con sindrome di down sa che hanno una confidenza con l'abbraccio notevolissima e anche una confidenza con la vita che molto spesso a chi ha quel cromosoma in meno manca. L'organizzazione dello spettacolo è avvenuta grazie al Lions Club Prato Castello dell'Imperatore che ha voluto sensibilizzare la città su temi sociali molto delicati, scegliendo inoltre di devolvere i fondi raccolti per l'acquisto di un bene di necessità alla pediatria dell'ospedale di Prato. Tante altre associazioni hanno partecipato direttamente alla vendita dei biglietti ed i risultati non si sono fatti attendere. Il teatro ha registrato il tutto esaurito. Noi siamo veramente molto felici perché il risultato è andato oltre le aspettative, non ho ancora idea di quanto sia il ricavato ma sicuramente sarà dignitoso e quindi potremo aspirare a realizzare il progetto previsto. E poi diciamo che l'obiettivo principale che era quello di raggiungere le associazioni interessate e tutta la città che ci ha abbracciato calorosamente è stato pienamente raggiunto. Sono stati presentati questa mattina in comune i vincitori del premio Prato Amalo Sport. Guardate. L'edizione 2018 di Prato Amalo Sport che premi atleti, società e figure sportive e professionali che hanno contribuito ad arricchire Prato dal punto di vista sportivo e sociale, quest'anno ha come protagonisti il presidente dell'SD Street Basket Prato Marco Scarselli, i campioni di pattinaggio artistico Desiree Cocchi e Alessio Gangi, lo storico giornalista sportivo Riccardo Palandri e il progetto Pallamano a Rata Libera. Abbiamo pensato di andare a casa dei protagonisti, di valorizzare l'impegno e il lavoro nei luoghi in cui questo impegno e questo sudore è stato versato. Noi abbiamo cercato di valorizzare sia figure che attivamente hanno fatto di Prato una città di sport, sia persone che stanno lavorando o che hanno raccontato la nostra città per quella che è. Quindi daremo il primo riconoscimento a Scarselli che è un uomo del mondo del basket che ha contribuito davvero tanto attraverso la società di street basket alla rivalorizzazione di luoghi pubblici coniugando l'aspetto sportivo e l'aspetto sociale. Daremo anche un riconoscimento a chi ha conquistato Mediali a livello europeo e mondiale, la nostra atleta Cocchi e il nostro atleta Gangi. Poi andremo a dare un riconoscimento di un'esperienza che io reputo straordinaria che è quello che è stato fatto dalla palla a mano Prato con il percorso di inclusione attraverso la palla a mano a ruota libera. Verrà a trovarci il cantore di tante storie di sport negli anni 80, 90 e 2000, cioè Riccardo Palandri, un giornalista che ha dato tanto a Prato. Scarselli sarà premiato il 25 novembre alle 18.40 alle Toscanini, il 7 dicembre alle 16.30 la consegna del premio a Palandri nell'ufficio del sindaco. L'8 dicembre alle 21 al pallarugai di Maliseti sarà la volta di Gangi e Cocchi, premiati durante una partita del campionato nazionale di hockey di Serie A2. E infine il 15 dicembre alle 14.30 alla palestra Valentini a ricevere il premio sarà la palla a mano Prato per il progetto Palla a mano a ruota libera. E facciamo adesso una breve pausa ma rimanete con noi, torniamo tra poco con l'agenda e il meteo. Ben trovati ed è il momento dell'agenda, vediamo insieme tutti gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni. Domani venerdì 23 novembre alle 16.30 nel Salone Consiliare del Palazzo Comunale un incontro dedicato alla figura di Anna Fondi nell'ambito della rassegna Donne raccontate storie di impegno politico e civile. Alle 17.30 allo Spazio Valentini Vivacità delle Grazie, inaugurazione della mostra fotografica di Stefano Baroni nell'ambito delle iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne. Ancora alle 17.30 alla Biblioteca Lazzarini l'intelligenza di unire, rotture e divisioni, l'efficacia collettiva per i gruppi di lavoro, presentazione del libro di Pino Desario, direttore della scuola Facilitatori. Alle 20 alla pizzeria San Martino a Vergaio, Vergaio per la popolazione di calci. Cena in favore della cittadina di calci, danneggiata da un incendio, a cura del gruppo Presepisti Vergaiesi, terri di presepie della pizzeria San Martino a Vergaio, necessaria la prenotazione. Alle 20.45 al teatro Fabbricone La Mala di Del Amor, spettacolo della regista Katie Mitchell con Letizia Dosh e Nick Fletcher con la voce narrante di Jasmine Trinca. Alle 21 alla parrocchia di San Paolo, cani d'estate, presentazione del nuovo libro di Sandro Veranesi. Con l'autore intervengono alla serata lo scrittore Mario Desiati e il parroco di San Paolo, Don Jean-Jacques Ilunga. Alle 21.15 al circolo MCL di Caffaggi e ragazzi di Don Milani, incontro con Piero Cantini, ex allievo della scuola di Barbiana. Venerdì 23 e sabato 24 novembre alle 21.15 al cinema Teatro Borsi, Ipazia, lettura scenica in forma di spettacolo di Mario Luzzi. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Questa è la situazione prevista per le ore centrali della giornata di domani. Vediamo una vasta depressione centrata ad ovest delle isole britanniche. All'interno di questa circolazione depressionaria è inserita una perturbazione che determinerà un nuovo peggioramento anche sulla Toscana per domani. Per quanto riguarda l'alta pressione tende invece a ritirarsi verso l'Europa orientale. Passiamo subito a vedere quindi le previsioni per la giornata di domani. Già in mattinata avremo delle piogge a partire dalle zone meridionali ed a quelle costiere. Piogge che poi tenderanno gradualmente ad estendersi un po' a tutta la regione, questo anche nel corso del pomeriggio e della sera. Per quanto riguarda le zone comunque caratterizzate dalle precipitazioni più intense saranno comunque quelle di nord ovest. Per quanto riguarda i venti sono previsti in sensibile rinforzo. Si tratterà di venti di scirocco che potranno essere localmente anche forti sull'arcipelago e sul mare e sul litorale e meridionale. Per quanto riguarda le zone interne invece generalmente deboli o al più moderati. Per quanto concerne le temperature sono previste in sensibile aumento nei valori minimi, mentre per quanto riguarda i valori massimi non dovrebbero subire variazioni significative. La tendenza poi per la giornata di sabato è all'insegna ancora di un tempo marcatamente instabile, quindi avremo una giornata caratterizzata da precipitazioni a carattere sparso, anche a carattere di rovescio. Questo sia al mattino che al pomeriggio. I venti tenderanno a provenire da sul ovest e quindi saranno venti di libeccio, generalmente moderati con locali rinforzi sul litorale. Mari generalmente mossi o localmente molto mossi, i settori settentrionali. Le temperature infine sono previste in ulteriore aumento. Con questo dall'ammettuto. E questa era l'ultima notizia. Il telegiornale termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prate per domani alle 13.45 con il Tg del giorno. Ma rimanete con noi, vi lasciamo intorno alle 9 a seguire il settimanale di Attualità Parliamoci Chiaro. Grazie per averci seguito, arrivederci.